Il cambio del comando al vertice delle due compagnie dei carabinieri è stato contemporaneo. A guidare i militari di Martina Franca è arrivato il capitano Silvana Fabbricatore, 31 anni, originaria di Salerno, prima donna ad assumere questo incarico. A comandare la compagnia di Fasano è giunto il capitano Massimo Cicala, anche egli di origini campane. A rendere speciali le due nomine, oltre alla comune origine geografica dei due ufficiali, c'è un particolare in più. Il capitano Silvana Fabbricatore e il capitano Massimo Cicala sono moglie e marito. Si ritroveranno così a guidare due compagnie che operano in territori confinanti. Fabbricatore, dopo due anni all'Accademia Militare di Modena, ha frequentato tre anni alla Scuola Ufficiale di Roma, al termine del quinquennio ha poi conseguito anche la laurea in giurisprudenza. Prima di ottenere il comando della compagnia è stata destinata al Comando Nucleo Operativo Radiomobile di Verona. Massimo Cicala, 30 anni, ha intrapreso la carriera nell'arma nel 2009. Quale vincitore del concorso ufficiale ha ricoperto l'incarico di comandante di Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Lecce dal 2016 al 2017 e successivamente promosso capitano ha comandato la compagnia Carabinieri di Desensano del Garda.